C'è un allarme, lo hanno lanciato alcune associazioni che si occupano del territorio e difendono la natura, ne abbiamo già parlato nell'altra puntata. Il Regione sarebbe pronto un progetto per captare molta più acqua dalle sorgenti montane dei nostri fiumi, un'azione che si renderebbe necessaria a fronte di un consistente aumento del consumo dalle popolazioni, ma un'azione che appare anche schizofrenica a fronte dell'impoverimento delle falde acquifere. Invece di risparmiare tappando i buchi delle tubature, insegnando a sprecar meno, usando per scopi agricoli e industriali acque piovane non solo, chiediamo più acqua minerale alla nostra montagna. I fiumi sono già saccheggiati, qualcuno potrebbe addirittura sparire. L'Aso lo è stato selvaggiamente. Lo dimostra un bellissimo ma poco conosciuto libro scritto da valido capodarca Enel Dobruni, titolo Viaggio lungo l'Aso dalle sorgenti alla foce. Ci sono anche molte immagini, alcune documentano la situazione del fiume a foce, decenni fa ricco di acqua prorompente, altre la povertà odierna. Per altri versi, chi andasse a Capotenna, dove inizia il fiume Tenna, troverebbe non più una sorgente come tanti anni fa, bensì un tubo, bello grande ma sempre un tubo, addio romanticismo. Opere sicuramente necessarie dei consorsi idrici per dissetarci. Lette vivo ce lo ricordiamo per i danni che compie quando le piogge sono abbondanti. Lette morto sembra una palude stagnante in attesa di terribile riscossa. Al di là dei progetti più o meno decenti, c'è un punto da affrontare con qualche domanda. Quanta cultura del fiume abbiamo oggi e quanta civiltà del fiume resta ancora in piedi? Il Vescovo di Fermo era in guerra, diciamo così, con i monaci di Santa Croce Alchienti perché voleva il rivatico riscosso invece dai Benedettini, che era una gabella sul passaggio e l'attracco delle chiatte. Nel 1700 Lette morto venne deviato dal suo corso naturale per motivi economici. Una scelta improvvida, la leggenda dice che Lette di tanto in tanto se ne vendica. Anche l'aso e il Tenna erano in qualche modo navigabili, questo accadeva a secoli fa. Ancora negli anni 60 e inizio 70 consentivano il bagno dei giovani e qualche volta reclamarono anche vittima. All'incirca negli stessi anni dell'altro secolo, del vallato, e cioè il rio che correva parallelo al Tenna, si raccontavano strane storie di fantasmi gocciolanti che apparivano in piedi sulle acque, fantasticherie sicuramente, ma che indicavano una storia dei fiumi che non fosse solo idrica o scientifica. Sul vallato giravano grandi ruote che raccoglievano acqua distribuendola per la campagna. Non ce n'è più. Nei pressi giravano anche le ruote dei mulini. Qualcosa si vede ancora a piane di Monte Giorgio, Monte Fortino e sotto Smerillo. Oggi la nuova cultura turistica parla di costa e di montagna. Eppure il fiume sarebbe una cerniera che unisce le due terre in unica area. Bene fanno gli amanti delle due ruote a reclamare una ciclabile dal mare ai monti lungo il Tenna. Dovrebbero costruirne una per ogni corso d'acqua e dovrebbe risorgere qualche vecchia osteria dove bere un buon rosso e ricordare di Luigi Navarra morto alla Castelletta di Castel Clementino sul Tenna per opporsi agli invasori. Allora erano i francesi, ora è una mentalità, anzi una tendenza dominante, ovvero mainstream. Ci troviamo nella bellissima campagna di Monte Urano nell'azienda Vitivinicola Maria Pia Castelli e con noi c'è la titolare dell'azienda Maria Pia. Buongiorno Maria Pia. Buongiorno a voi. Che tipo di uva è questa? Questa qui nello specifico è il Monte Pulciano. Ecco e per quanto riguarda il vino quando inizia la vendemmia? Questa è una bella domanda. Pensiamo o meglio speriamo, tempo permettendo, verso 20-23 di settembre, anche se il Monte Pulciano poi sarà l'ultimo a essere vinificato. Di solito si inizia da altri vitigni tipo il San Giovese nel nostro caso, poi si passa alla Bianca e infine il Monte Pulciano. Stamattina ho visto un'attività molto... ci sono dei camion, ci sono delle bottiglie, che state facendo? Dovremmo fare l'imbottigliamento, anche questo tempo permettendo, ma comunque l'imbottigliamento va fatto. Di solito li dividiamo perché comunque nella produzione sono quattro vini, dividiamo due e due. Quest'anno per forza maggiore abbiamo dovuto unirli, quindi imbottiglieremo tutti e quattro. Il 2012 per l'esattezza come annata, insomma. Quindi come arrivi nella vigna? Arrivo nella vigna perché comunque la mia famiglia e i miei parenti, i miei nonni erano contadini, soprattutto vignaioli. Quindi fin da piccola era normale andare a raccogliere l'uva, vendemmiare, aiutavo comunque i miei nonni che poi un tempo nonno paterno aveva una cantina, dove ora c'è l'Elios, praticamente era una cantina. Logicamente filosofia totalmente diversa, vendeva poi il vino sfuso, eccetera. Quindi la passione però è nata ben più tardi, crescendo. Passione per il vino principalmente e poi pian pianino abbiamo pensato con mio marito e con tutta la famiglia, mio padre compreso, anche se purtroppo lui non c'è più. Invece di vendere l'uva alle cantine, alle grandi cantine, perché no? Provare a fare il vino noi. Sì, dopo sicuramente tentativi, errori, forse ne faremo ancora. Pensiamo di aver raggiunto un buon livello, insomma, sempre nel biologico, nell'organico come tipo di lavorazione. Senti, dicono che i lavori sono sempre croce e delizia. Ecco, partiamo dalla delizia e poi arriviamo alla croce. Sì, la delizia è quando l'intera famiglia, perché la nostra conduzione familiare, mia mamma compresa, ci ritroviamo a fare i lavori in vigna che partono a gennaio e poi la vendemmia in sé, è comunque un evento bello, seppur faticoso, perché logicamente quando la vendemmia è poi fatta a mano e quindi staccare le cassette è abbastanza faticoso. La croce è quando dal sorriso poi arriva la perturbazione, come è successo per esempio quest'anno agli inizi di agosto. Io mi sono ritrovata stupidamente con le lacrime agli occhi perché il terrore, vedendo la grandine scendere, era, oddio, tutto il lavoro se ne va in fumo. Poi fortunatamente il danno è stato minore. La croce è questa, insomma, è questa quando, come quest'anno, una stagione così piovosa, sicuramente non darà un'annata eccellente. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio logicamente fino alla fine, anche perché nel nostro caso se non si usano prodotti chimici, eccetera, è ancora più difficile. Senti, allora adesso ci dici i tuoi prodotti tipo, i tuoi vini tipo e poi il mercato, mercato italiano ed europeo, mi sembra. Vabbè, siccome sono otto ettari, quindi il vigneto è piccolo, la produzione è piccola perché facciamo basse rese, perché mio padre con gli stessi ettari faceva molti più quintali e produciamo un Sangiovese e un Montepulciano che vinifichiamo separatamente proprio perché pensiamo che le caratteristiche vengano meglio fuori. Questo è il nostro pensiero, naturalmente. quindi un Sangiovese e un Montepulciano, un bianco da sempre macerazione sulle bucce, quindi la stessa vinificazione del rosso di uve nostre autoctone, quindi pecorino, passerina, trebbiano e malvasia di candia e un rosato fatto da salasso. Cioè salasso, per chi, io lo dico, anch'io l'ho dovuto studiare perché inizialmente anch'io non sapevo che cosa fosse, prima della fermentazione alcolica viene tolta una parte del Sangiovese e una parte del Montepulciano, così abbiamo un rosato piuttosto strutturato e nello stesso tempo concentriamo maggiormente i due rossi, il Sangiovese e il Montepulciano. Quindi sono quattro prodotti, totale delle 25.000-28.000 bottiglie annue, più o meno, insomma. Che vendi e quali mercati? In Italia, nonostante la crisi, insomma, teniamo il passo, soprattutto al nord, Lombardia, Veneto, sì, perché magari abbiamo tanti ristoranti importanti, non facciamo milioni di bottiglie, quindi non abbiamo, insomma, cioè per noi l'importante è che il cliente, il consumatore finale sia educato perché non è un vino che noi lasciamo al ristoratore, è un vino che va un po' spiegato, ecco. Scusa, ti interrompo perché mi dicevi che ci hai avuto dalla visita quest'estate di italiani, soprattutto del nord, cosa che non capitava precedentemente. Assolutamente, perché negli ultimi anni abbiamo avuto tante visite di stranieri come quest'anno, stranieri che sono capitati per caso nelle Marche negli anni passati, da 7-8 anni a questa parte, 10 anni a questa parte, poi si sono innamorati delle nostre colline e hanno acquistato anche case dove vengono a trascorrere le loro vacanze. Ma quest'anno abbiamo avuto tante visite di italiani che mi hanno detto, cioè conoscevamo la Toscana, l'Abruzzo, la Puglia, insomma, le regioni più, magari più conosciute, anche a livello internazionale, le Marche invece le abbiamo riscoperte come veramente una regione gradevolissima dove troviamo tutto per tutti, nel senso dal ristorante stellato all'agriturismo, al ristorantino tipico, quindi per noi è stato veramente piacevole, molto, molto piacevole, una piacevole sorpresa, sì. Ecco, in Europa soprattutto in quali nazioni a sport? Dunque, in Europa, Belgio e Olanda, soprattutto, un po' Germania, qualcosa adesso da quest'anno veramente a Riga, Vilnius e Riga come zona, Lituania e Lettonia. Senti, Maria Pia, hai i tuoi figli che ha? Vorrei stare anche loro in Vigna? Sì, a uno, in particolar modo, sono già 4 anni che lavora con noi, quindi lui è molto preso, questo lavoro lo ama, anche perché se non hai passione non è un lavoro, sì, in tutti i lavori occorre passione, ma in questo è uno stile di vita, non è... Io ad agosto sono stata qui nonostante le ferie generali, insomma, cioè è sicuramente più di tanti altri lavori, insomma, quindi uno lavora qui, l'altro fa l'università, però durante la vendemmia o durante i lavori più difficili è qui con noi, sì, assolutamente, quindi non potremmo andare avanti se non in questo modo, cioè piccola, a gestione familiare, dove tutta la famiglia lavora e cerca di dare il massimo, mette del suo, esatto. Allora, a questo punto, buona raccolta. Grazie. Due giorni fa sul Tg3, un servizio su un istituto scolastico marchigiano, un istituto che funziona molto bene perché la preside dirigente ha saputo creare una bella squadra e un ottimo spirito di corpo. Alla domanda del giornalista su cosa vorrebbe di più la risposta della docente è stata poter scegliere gli insegnanti, e cioè una maggiore autonomia. Proprio in queste ore il governo sta avarando la riforma della scuola. Le anticipazioni parlano di meriti, di fine del precariato, della riduzione dei permessi sindacali e dell'affronto del problema supplenze. Crediamo però che fino a quando non si arriverà ad una vera e propria autonomia scolastica, con tanto di voucher assegnate alle famiglie in modo che esse possano scegliere un istituto piuttosto che un altro, e fino a quando non si arriverà alla scelta degli insegnanti da parte proprio dei dirigenti scolastici, e poi a liberi metodi educativi, ovviamente sempre sotto la vigilanza ministeriale, ogni riforma potrebbe alla fine rivelarsi soltanto una toppa in più. Secondo fatto. Agliesi l'altro giorno un nigeriano impazzito e armato di due macette ha minacciato i passanti e anche i carabinieri. Il comandante della stazione dell'arma si è beccato un affendente, per fortuna soltanto di striscio. Mentre tutto ciò accadeva, c'era chi ha preferito farsi un selfie con sullo sfondo il giovane africano disperato. Terzo fatto. I paesi dell'entroterra, quelli di storia più antica, hanno un considerevole patrimonio artistico e architettonico di tutto rispetto. I centri storici sono veri e propri capolavori dove le diverse età si sono sovrapposte e poi amalgamate. Prendiamo Falerone, ad esempio. Storia romana in basso lungo la piana. Storia medievale a mezza collina. Storia medievale rinascimentale in pieno centro. Il paese è abitato da tantissimi stranieri, specie marocchini ma anche cinesi, ormai tutti residenti. Come far apprezzare ed amare da costoro i nostri patrimoni? Come fargli capire che sotto il portato della nostra storia è dunque eredità preziosa da rispettare? Come non renderli indifferenti ai luoghi dove vivono? Ecco allora l'importanza della scuola, ecco allora il legame. L'importanza di docenti, cioè, che siano in grado non solo di trasmettere nozioni, ma anche di abituare i giovani a rendersi conto delle situazioni tenendo in considerazione tutti i fattori, nessuno escluso. Un'educazione a cogliere, cioè, il senso e il nesso delle cose, anni fa. Nessuno avrebbe avuto l'idea di fotografarsi o farsi fotografare con un poveraccio, eppure pericoloso, alle spalle. Non perché le attrezzature non ci fossero, ma perché saremmo stati in grado di cogliere la drammaticità, se non la tragedia di quel gesto, di quel momento. Un'educazione capace di raccontare, anche a chi non è nato in questa terra, la stoffa di questa terra, e comunque il paragonico nella propria cultura. Quello che è avvenuto meno ci sembra, il significato delle cose. La scuola dovrebbe restituirlo allora, e questa è la grande sfida. Scendete! Avanti scendete tutti! Mi avete capito? Sare di tutti! Grazie, figliore! Grazie! 28 agosto, ultimo appuntamento della rassegna culturale musicale di Villa in Villa. Sede prescelta la cisterna Art Caffè di Fermo, quartier generale dell'associazione armonica Mente di Nunzia Luciani, senza scordare Carlo Iommi, mente e cuore braccio degli eventi estivi nelle più belle ville, ma non solo, del Fermano. Raccontare la serata presentata da Lorenzo Spurio, serata ricca di spunti, non è semplice. Lo facciamo partendo dalla fine, dall'ultima canzone, che la simpatica è dotata a veli amoretti De Angelis, accompagnata al piano della brava Eleonora De Angelis, propone ai numerosi presenti. Santa Lucia nasce come canto napoletano ed è la prima canzone del risorgimento tradotta in italiano. È un classico conosciutissimo, e gli intervenuti la cantano insieme alla soprano. La gente si guarda attorno per constatare se anche il vicino di posto faccia altrettanto è come un improvviso ritrovarsi soddisfatto. Su qualcosa che unisce, che mette insieme, che cementa. In tempi di sgrettolamento e solitudini, sentirsi, anche solo per un attimo, un cuor solo, ha un valore inestimabile. La canzone produce unità. Del cuore parla la scrittrice Susanna Polimanti, introdotta e intervistata dallo scrittore e critico letterario Lorenzo Spurio. La ragione non basta. Il razionalismo è limitato, diventa una stanza chiusa, buia, alla fine asfittiche. La finestra da spalancare dove prender luce è quella del cuore, dei sentimenti, dell'affetto. Sì, come l'affetto gratuito che ha imparato incredibilmente guardando il suo cane Strauss, gli ha dedicato il primo libro, Due cuori e una cuccia, dove Strauss non solo è protagonista, ma è voce narrante, colui che racconta, che racconta della sua padrona, evoca il piccolo principe di Saint-Exupéry, dove è la volpe che interloquisce con il nobile Mignon. A Daniela Agostini, poetessa e attrice, il compito, superbamente assolto, di proporre e interpretare alcuni passaggi del volume. Mentre lei legge, Susanna fissa lo sguardo e annuisce sorridendo, meglio non saprebbe fare. L'altro libro della Polimanti è Lettere mai lette, cioè scritte e mai inviate al destinatario, parole del cuore messe su carta e gelosamente serbate in un cassetto, per pudore, per riservatezza. Lettere collezionate dai 14 anni in su sono state ritrovate da qualche tempo e, superata la fase della discrezione, sono diventate pubbliche. Un gesto di maturità perché, se la scrittura è catarsi, la pubblicazione è confessione. L'ultimo libro si intitola Penne d'Aquila, un romanzo che molto ha di autobiografico e il distacco dalla famiglia, gli studi universitari, in una grande città, la laurea, il lavoro, i licenziamenti, le novità. È la storia di Virginie, Susanna, alla ricerca di sé, di una ragazza normale eppure diversa dalle sue coetanee. A quando un nuovo libro ci sta lavorando. Sarà una sorta di romanzo storico della sua famiglia che possiede il castello di Montsampietro Morico, dove non mancherà lo sfondo psicologico. La ricerca dell'anima e del cuore, che sono le cose che Susanna più ama. Intanto compone Aiku, poesie sullo stile giapponese, di tre versi in tutto, perché, perché, risponde, solo uno sguardo immediato sulle cose, come uno scatto fotografico, istantaneo. Nella tradizione di Di Villa in Villa, il gran finale, come dicevamo, è riservato alla musica. Cosimo Moretti di Angelis si esibisce al violino, accompagnato da Eleonora nel Trillo del Diavolo di Tartini, e Velia propone tre sconosciute, pure godibilissime, romanze da camera. Sogno parla nella notte d'april di Francesco Paolo Tosti. Applausi e richiesta di bis. Bella serata. Il segreto di Nunzia Luciani? Toccare il cuore degli intervenuti con proposte mai scontate e soprattutto che abbiano un significato profondo. La fidelizzazione sta tutta lì. Arrivederci al 2015, come dice il gentile Gianvittorio Battilani, presentatore ufficiale. Grazie a tutti.